FAN DA BEARS Beh, eccoci qua, li ho catturati tutti Ben fatto coglione, eh, Ash Già Per tutto il tuo duro lavoro, sono orgoglioso di consegnarti Questa spilletta di merda Vanno e fiero Oh, vecchio bastardo che non sei altro Ciao ragazzi, ecco un breve video infrasettimanale Se avete comprato Pokémon Sole o Luna, scrivetecelo qui sotto nei commenti E diteci cosa ne pensate Ci vediamo domenica, ciao!